I got options, I can pass that bitch like Starker Dal basket giocato per far parte di queste carriere, mannaggia, ma ho già scelto e lo vedrete in questa settimana perché credo che venerdì la cominceremo l'ultima carriera simulata di quest'anno, stanno davanti anche quella del quartetto tra YouTube e le live che vi lascio in descrizione. Noi siamo alla diciassettesima stagione con il nostro magico mago High Lakers con la 6, Lebron muto, abbiamo una squadra assolutamente tosta anche perché Cunningham si è fatto un bel più 4 di overall, Barniani è sceso di 2 ma dovrebbe tornare secondo me 90 durante la stagione, la panchina non è male quindi possiamo fare molto bene assolutamente. Adesso come vedete c'è un po' questo dominio di Jokic e dei suoi Memphis Grizzlies al momento, però vediamo, siamo trattato nella stagione scorsa, arrivati andiamo, voi mi raccomando 2000 mi piace per cominciare la nuova carriera simulata, vi voglio vedere belli carichi, non che sia particolarmente importante ma io una roba del genere non l'ho mai vista. Abbiamo vinto in una partita di regular season a caso 152 a 80, meno 72 gli Hornets, non credo sia un record perché è stato aggiornato, qualche stagione fa era meno 77 però potrei sbagliarmi. Diciamo che nel nostro multiverso sì, è un record di stacco e l'abbiamo fatto noi, in positivo quantomeno quindi vabbè. E Trae Young a vincere l'NVP credo sia una prima volta ai Pacers, Chet è la matricola dell'anno che qui non è stato infortunato con delle cifre vabbè, Darius Garland, sesto uomo dell'anno, Anthony Davis di Fancy Pier, Zubac di Aaron Fox, ah è arrivato anche il giocatore decisivo e i Mavs hanno fatto 61-21. Noi abbiamo fatto una buona stagione, si poteva forse fare un po' meglio, dubito saremo nei quintetti. 42-40 al nostro record per una vittoria, non siamo riusciti ad andare un po' più su, eravamo anche quarti a una certa, vabbè. Vediamo cosa ha combinato il mago, io mi aspetto comunque ancora buone statistiche. Sì, sì, 17-9 rimbalzi, 4 assiste e mezzo, una stoppata e mezzo, saltando qualche partitina qua e là, Caris Levera è morto, Aaron Gordon penso giocherà. Primo turno in payoff contro Portland, la Marcus Aldridge, Hatz e Wendell Carter Jr., beh, una buona squadra. Li siluriamo andando a vincere 4-1 e abbiamo avuto tutte e due le partite a Portland, bene, ma il mago, ma il mago ancora spinge a 37 pass anni, eh, doppie-doppie. Ventello, qua abbiamo fatto 150 punti, 23-10, bene, 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 secondo turno in playoff contro Sacramento, ma Memphis, oh, Memphis ha fatto schifo quest'anno. De Rosan c'ha 30 anni, ma schai me l'ero perso con Porzingis e Jokic, madonna mia, sono arrivati i settimi e sono usciti, ma com'è possibile? Noi affrontiamo Sacramento, siamo sotto 2-0, ah, cazzo, è vero, la Sacramento, Devin Booker, Ben Simmons, Sexton, Adebayo, appena draftato, no, beh, no, appena draftato no, però comunque sì. Ne vinciamo almeno una, magari, no? Vabbè, oddio, non mi sembravano così irresistibili da non vincerne una, ecco. No, è che Ben Simmons è il mostro finale, ha fatto tre triple-doppie su quattro partite, tra cui 22-10, 12 l'ultima, sbagliando due tiri. Vabbè, eh, ok, non mi aspettavo di vincere più dei titoli in questo, in questo finale di carriera, però avevamo una buona squadra, un peccato. Secondo me abbiamo ancora una chance l'anno prossimo, con Cunningham che andrà ancora su di 3-4, lauree MVP, Dallas Mavs, campioni. Ok, giusto tanto per un'occhiata al draft 2023, ma perché sono curioso di... No, gli Spurs hanno preso l'uno, non ci credo, come nella realtà. Ma non ci credo, incredibile. Vabbè, Wemby e gli Spurs, ok. Brandon Miller va ai Raptors e i Rockets scambiano la 3 per Miles Bridges e Blake Griffin nel 2023, complimenti. Eccolo, infatti, il più 5 di Cade Cunningham, ma c'è anche il meno 3 del Mago che ha firmato per altri due anni, che verosimilmente potrebbero essere gli ultimi due anche, eh, nell'NBA. Attenzione. Attenzione, arrivato da Marcus Aldridge, ha 78 mila anni. Quickly più 2, ripeto, abbiamo una buona squadra, dai. Eccoci qua, diciottesima stagione, eh, oh, abbiamo praticamente, cioè, voglio dire, 87, 88, 87, 89, che potrebbe diventare 90 durante la stagione. Più 2, 80 di Veroli in panchina, cazzo, dovremmo dominare, non capisco perché. Fa schifo il coach, che magari facciamo male. Lucas Lucas. Beh, dalle... non lo vedete perché c'è la mia sedia, ma A, B più, quindi neanche troppo male. Dian Dreyton, l'NVP, sempre i Mavs, tra l'altro, ok? Aventon, sommatricola dell'anno, John Worcester, uno difensore, noi ovviamente non facciamo niente, Shai 23, 5, 9, wow. Abbiamo fatto una buona quinta posizione, Barniani è sceso ancora un po', 15 punti, 7 rimbalzi e mezzo, 4 assist, anche perché comunque sta salendo Canningham e gli altri. Però, boh, si potrebbe fare un po' meglio, secondo me, con la squadra che avevamo, cioè. E tra l'altro ci siamo beccati contro proprio Memphis, la vedo veramente tosta, contro Jokic, Porzingis e Shai. Non ne vinciamo neanche una, secondo me, sì. Ok, forse ho perso troppo presto la fiducia, scusatemi. Gara 5 in trasferta, la perdiamo, vediamo se la portiamo almeno alla settima, sì. Ok, il nostro potremmo averlo fatto, magari uno zampino da bip-pop-pa. Si gode, si gode. Oddio, Barniani ha fatto abbastanza vomitare. Però, 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 si gode. Passiamo il turno, dagli, e guarda l'ottava. Ah, peccato. Dallas è il secondo turno, che sono quelli che hanno vinto 74.000 partite. Ne vinciamo subito uno, e anche di molto. Questa volta Barniani decisamente meglio. Doppia-doppia di Giore dei partitoni di Kate Cunningham. Vuoi dirmi 0-2? Non ci credo mai. No, dai. Ok, altro due pari. Vittoria in gara 5 là e vittoria in gara 6 in casa. Ma che è? Ah, ma Barniani 5 su 19 dal campo. Si è giocato con gli altri, praticamente. Abbiamo vinto comunque. Fine di confez contro Phoenix. Ah, cazzo, la Phoenix quella pazza là. Però non c'è Steph e neanche Derrick Rose. Dove sono finiti? Li hanno riusciti a perderli entrambi? Non solo uno, entrambi. Complimenti. Oddio, Kate Cunningham, 0-4. Contro Westbrook e i suoi Pistons. Dobbiamo andare a giocare. Primo sì da est. Oddio, Lake Spistons ha molto di anni 90, invece il 2023. Bello. Westbrook, Hawaii, Bamba, De Jong, Temare, Segeme, Collum. È una bella squadra, però... Ce la possiamo giocare. Il quintetto è più forte il nostro. Dai! Dai che bello un altro titolo nell'ultima episodio. Non ci credo mai. Non ci credo mai. No, ma no. Ma tutto sto lavoro qua puoi prendere una merdata del genere alle Finals. Barniani benino. Vabbè, insomma, c'ha 38 anni. Non è che gli chiedo di fare 30 punti a partita. Però, ecco, se Cunningham fa 6 punti in una partita delle Finals, dove esattamente vogliamo andare. Bravi a esserci arrivati. Un ultimo squillo di trombe. L'ultimo canto del cigno. Eeeh, niente. Diciannovesima stagione, ultima di contratto. Forse anche ultima in NBA. La squadra continua ad essere buona. Barniani, però, purtroppo, adesso 83 di overall. Non è più chissà quale centro. Si possono sicuramente fare i play-off. Se Cunningham ci porta sulle spalle da qualche parte, adesso lo vediamo assieme. E, difatti, a fine stagione il tracollo è stato assolutamente netto. 11 punti e mezzo, 5 rimbalzi e mezzo, 3 assist e scendiamo sotto l'uno sia di recuperi che di stoppate. Oh, e addirittura per 6 partite non siamo partiti in quintetto. Si fa quel che si può. Sesta posizione a ovest. Utah. Ah, Steph è andato a Utah dopo Phoenix. Beh, ci sta. Ci ritroviamo alla gara 7. In questo primo turno hanno vinto tutte le squadre in casa fino adesso. Vediamo se continua a questo thread. No. Come l'anno scorso. Paro, paro, lì. 112 a 111. Mago, 3-5-5, con anche 5 palle perse. Mice Bridges? L'abbiamo preso via trade, forse, a questo punto, mi viene da dire. Perché in inizio stagione non c'era. Boh, boh, no. Secondo turno contro Sacramento che ha battuto Phoenix. Allora abbiamo anche il fattore campo in questa serie, incredibilmente. Non dirmi che facciamo un'altra finale di conference. Farebbe abbastanza ridere, come cosa. 3-1, 4-3? 3-1, 4-3, Carmelo Anthony, be like. No. 4-3 per noi. Perché sudarla fino alla gara 7? Mi è davvero misterioso. Bargnani veramente ormai ha la frutta, eh. 5 ribalti effesivi, però, per il mago. Eh, non si schifa, eh. Non si schifa. Adesso contro Dallas, 4-0. E tante dolci nanne per tutti, mi sa, no? No, no, no. Dai, dai, dai. Guarda, guarda, guarda come. Con le unghie, con i denti, Kate Cunningham sulle spalle. E tutta Los Angeles. Ciao. Ma, gara 7, tanto per cambiare, vinciamo anche questa, allora. Eh, via, l'altra finale NBA. Allè, via. Olè. Back to back finals all'ultimo episodio. Veramente manco, non ci credevo mai. Mai. Lavin, PJ Washington, una squadra veramente imbarazzante. Cioè, di overall, sì, però, una squadra imbarazzante, gli avversari. Dai, per piacere. Sì. E poi ci ritiriamo, mago. Facciamo così. Sì. Sì. Sì, l'ultimo titolo per chi... L'ultimo titolo della carriera per chiudere e dare un titolo anche a LA. Oh, sì. Oh, sì. Che il Kanegham ha cariato in una maniera vergognosa questa squadra. Veramente vergognosa. Fosse forte così anche nella realtà di Obono e Ipisto non avrebbero perso 100 passapartite nell'ultimo anno. Vabbè. Eh, 4 a 2. Mago, io fossi in te mi ritirerei. E invece no. E invece no. No, mago. Ma scusami, non avevo un anno di contratto ancora. No. Ma no. Kanegham, me l'avranno rifirmato. Dov'è finito il mago? Ah, è andato all'Iuta Jazz a giocare con Steph. 81 di overall, 39 anni. Ok, questo è sicuramente l'ultimo anno di carriera. Ebbene, sì, giochiamo con Steph. Anche lui piuttosto attempato, ma con una buona squadra, assolutamente. Siamo il settimo uomo della rotazione, ma è un settimo uomo da 80 di overall. Quindi promette bene sta squadra. A fine stagione abbiamo fatto i playoff. Il mago si è fatto ancora i suoi 10 punti di media. Ha cominciato anche un paio di partite. Strappo al crociato sinistro. Mannaccia la troia. Che sfiga. E chi gioca? Keont e George. Titolare. Contro la mia ex squadra. Azz. Azz. Ci tirano una rullata. È arrivato Imci Mura ai Lakers. Ci tirano una rullata che metta basta. Infatti abbiamo fatto il secondo sì da ovest. Cioè voglio dire, tanta tanta roba. Come questo finale di carriera da in squadre da titolo incredibile del mago comunque. Peccato che poi sopra 2-0 veniamo buttati fuori 4-2. Insomma. I Lakers ancora una volta carriati da Cunningham. Arrivano ai Finals pronti per il back-to-back? Sì. E noi c'è... Ma perché? Mago, ma mago. Potremmo avere un altro titolo ancora. Anche se da comprimare. Ma chi se ne frega. Che palle. Eh, mago si ritira così. Perché l'avevo già fatto ritirare prima. Che orfor con noi. Che palle. Vabbè. 20 anni di onorevolissima carriera. Però, Dio, si poteva fare anche meglio. Cominciamo il volo con i controlli. Il Carrerai è già migliore. Anche per triple. Migliore con 9 tiri da 3 realizzati. I rimbalzi sono migliori. 22 contro 17 della realtà. Sapete che andiamo a fare i paragoni. Doppia cifra di assist che nella carriera non ha mai fatto. Le stoppate sono pari. E i recuperi sono sopra di 1 rispetto alla realtà. Ma la vera differenza è che viene ammesso nell'Aule of Fame. Oh, che bello. Nella classe del 2026. Con 1536 partite giocate. 17 punti e mezzo di media. Superiore alla realtà. 8,8 rimbalzi. Dovrebbe essere superiore anche. Adesso lo guardo al volo. Sì, doppio praticamente. E raddoppiati anche gli assist. Siamo lì giusto con le stoppate. 13 volte All Star su 20 stagioni. Due volte campione NBA. Purtroppo 0 MVP delle finali. Ma vabbè. Ci sta. Non è un problema. Una volta primo quintetto NBA. Due volte secondo. E cinque volte nel terzo. Mai nei quinti difensivi. Non abbiamo vinto la matricola dell'anno. Come non aveva fatto. Ma come nella realtà. Primo quintetto matricole. Abbiamo ricevuto la maglia ritirata. Ai Lakers. E la maglia ritirata. Ai Raptors. Dove in entrambi i casi. Abbiamo vinto un titolo. Io sinceramente. Non posso che essere d'accordo. Allora. Cominciamo con le squadre. E siamo primi ogni epoca. Anche se a pari merito. Con un po' di personaggi. Per triple segnate. In una partita. Nella storia dei Raptors. Siamo secondi a pari merito. Dietro a Bosch. E di poco. Anche quinti. Poi. Con 22 rimbalzi. Sempre in una partita. Nella storia dei Raptors. Secondi. Di nuovo a pari merito. Per rimbalzi. Questa volta. Ai playoff. Con 21. Eravamo anche in top 5. Per tiri liberi realizzati. E siamo secondi. Per stoppate. Con 6. Peccato. Sempre un pelo dal primo posto. Che palle. Sesti. Ogni epoca. In una stagione. In maglia Toronto. Raptors. Per stoppate. 162. A pari di XR. Nel 2011. L'abbiamo fatto. E guarda un po'. Facciamo la comparsata. Anche per la media stoppata. In una stagione. Con 2. Al nono posto. Nel 2011. Abbiamo messo piede. Anche nella storia dei Lakers. Che con tutto il rispetto. Non sono proprio i Raptors. Come tipo di storia. Ottavi. Ogni epoca. Per tiri da 3. Dati in una stagione. Nel 2018. 208 triple realizzate. Adesso diamo però. Un'occhiata. Alle statistiche all time. Io. Credo che. Visto l'andazzo. Insomma. 27.000 punti. Barnaby non li ha fatti sicuramente. Potrei anche. Credo. Evitarmi. Di mettere le statistiche vere. Qui sopra. Come ho fatto con Carmelo. Perché. L'avamo il dubbio. Difatti. Qualcuna avevamo battuta. Qualcuna anche no. Qui dubito che non batteremo tutte. Però. Siamo. 32esimi all time. 27.000 punti. Spaccati poi. Grande. Godo. Bellissimo. 42esimi per tirare al campo realizzato. 9.645 triple. Penso un po' più su. Eh. Eh beh. Eh beh. Dodicesimi all time. Aspetta che mi metto di qua. Così non vi copro niente. Dodicesimi all time. 3.379 triple. Beh. Oh. A 7 triple a Devin Booker. Perdonami. Sopra Gigi Reddy. Per essere un centro. Lascia far. Sessantesimo per tirare liberi. 431 tirare liberi realizzati in carriera. 24esimo per rimbalzi. Speravo top 20. Eh. 500 rimbalzi. Vabbè. 13.538. Credo comunque superiore alla realtà. Se non per il fatto che nella realtà ha giocato 10 anni e qui 20. Sai com'è. 24esimo anche per stoppate. 2.242 stoppate. Top 25 all time. Mi piace come cosa. Primo è sempre il solito Hakim. A sorpresa devo dire facciamo una comparsata. Non ho capito perché adesso è la maglia dei Celtics. Boh. Una comparsata anche nelle rubate. 1.505. 68esima posizione. E solo ventesima posizione. Qui dico solo sì. Perché 47.000 minuti in 20 stagioni ha fatto un bel po' di infortuni. Soprattutto all'inizio che arriva. Se vi ricordate. Poteva secondo me essere sui 50k. Più o meno circa. Cae l'auri 50k minuti. Lebron non ha sorpassato neanche Carmalone in questa classifica. Per la cronaca. E per partite giocate siamo sedicesimi. 1.536. Adesso la maglia dei Rockets. Vabbè ogni volta cambia. Lebron è sesto. Andrei Guodala. Primo all time per partite giocate. Quarantelli non mi sono visto. Cinquantelli ovviamente non abbiamo fatto neanche uno. Visto che il carrerai era 47-44. Cos'era? Triple e doppie non so quante ne abbiamo fatte. Veramente poche visto che non siamo in classifica. Mi fa strano così poche. Vabbè insomma. È chiaro che magari rispetto ad altre carriere simulate è andata male. Però è anche vero che qui si partiva con il potenziale più basso di sempre delle carriere simulate. E siamo sempre stati diciamo all'ombra di un'altra star. Come era Chris Bosh. Come è stata poi Kate Cunningham nella parte finale di stagione. Quindi ci sta per l'amor del cielo. È andata comunque molto bene. Spero vi siate divertiti. Spero vi sia stato interessante da provare a simulare questa cosa. E come ho detto all'inizio ne manca ancora una. E quello di cui faremo la carriera simulata tra l'altro vedo il suo nome in questa lista qui. Ecco. Ecco. Spoiler. Basta. Alla prossima. Ciao boys.